notti piene d'emozioni con le stelle dell'atletica mondiale giovedì 27 agosto in diretta alle 20 da Bruxelles un altro appuntamento con la Golden League la grande atletica è su Tele più bianco Lanza quiz passiamo adesso alla signora signorina sono un uomo e lo stesso se ragioni in abbondanza certamente passi a Lanza brava bravo a vo con la vo Lanza la risposta esatta sono i campioni del mondo e giocheranno in esclusiva su Tele più Tele più i campioni a casa tua Grazie Grazie